Questi occhi sono stanchi. Questo corpo è stanco. In volo ho guardato The Walk. Mi affascina la storia di Philippe T., che sfida la vita per affermare la propria espressione artistica. Mi venivano le vertigini a guardare il film, le scene di lui arrampicato su questa funa tesa tra i due grattacieli del World Trade Center. Allo stesso tempo mi venivano le vertigini per la sfida che si è dato e per il coraggio e la determinazione con cui ha perseguito il suo sogno. Dimostrazione che ci vuole un po' di pazzia per avere e realizzare qualsiasi sogno. A volte bisogna solo avere pazienza e voglia. Mi rendo conto che la nostra esistenza è come stare in equilibrio su un filo, dove facciamo convivere la fragilità e la determinazione, la paura e il coraggio, la cautela e la sceleratezza. Il trucco è guardare poco in basso e pensare poco, mantenere la concentrazione. Forse è proprio questo che volevate ripetire.